È possibile personalizzare Goose? È possibile creare dei nuovi campi o dei campi aggiuntivi? L'altro utente è possibile farlo, è possibile avere dei campi aggiuntivi come mostra questa schermata. Adesso andiamo un attimo in modifica. Vediamo cliente concorrenze e tipologie di vini acquistati che sono rispettivamente un campo di check e un campo di testo. Da dove si possono creare questi campi aggiuntivi? Andiamo sul menu, sul fondo, tabelle generali, campi aggiuntivi. Qui troveremo una lista di tutti i campi aggiuntivi finora creati. Apro lo stesso visualizzato prima. Come potete vedere abbiamo un codice campo che può essere parlante o meno, una descrizione del campo, che sarà quello che effettivamente comparirà come descrittivo del campo, tipo di campo, dove possiamo selezionare il tipo di campo, scegliendo fra quelli presenti, e il nome della tabella. Per visualizzare i nomi reali delle tabelle basterà cliccare qui. Questo link porterà alla documentazione online e alla voce struttura di sistema. Qui sotto, altri campi, dove è possibile definire se il campo è obbligatorio o meno, inserire un valore di default, specificare una lunghezza del campo e l'indice di ordinamento, un indice numerico di ordinamento decrescente ed eventuali note. Una volta salvato, il campo aggiuntivo viene salvato nell'apposita tabella. Molto importante effettuare un logout login per poter aggiornare l'applicazione locale. Quindi semplicemente si clicca sul menu, si va indietro e si clicca su esce. Chiaramente questo non è l'unico modo possibile per personalizzare Goose. Potrete contattare l'assistenza scrivendo a support-agusao.com per richiedere la creazione di nuovi campi che compariranno effettivamente come se fossero dei campi già presenti all'interno dell'applicativo per modificare o rinominare griglie, campi, tabelle o per aggiungere nuove funzionalità. Va precisato infatti che i campi aggiuntivi che vengono creati direttamente dall'interno dell'app hanno solo un fine anagrafico, quindi possono essere utilizzati solamente per aggiungere dei dettagli che rimarranno sulla scheda a cui appartengono. Se invece abbiamo bisogno di campi che possono essere filtrati, ricercati o che comunque debbano comparire all'interno di griglie o cose di questo tipo è sempre necessario contattare l'assistenza tecnica.